E poi un uomo è così, un uomo vuol far l'amore con una donna, glielo fa capire, no? Vuoi far l'amore con la tua donna, glielo fai capire. No, te no. Vuoi far l'amore con una donna, glielo fai capire. Come fai a farglielo capire? Come fai? Vai lì, gli fai così? Gli fai così? Scusi, principe, non l'avevo vista, chiedo scusa. Vuoi far l'amore con la tua donna, come fai a farglielo capire? Gli mandi un whatsapp, cosa fai? Un fax, un vaglia, cos'è che tu fai? L'altra sera uno mi fa, io quando voglio far l'amore con la mia donna, l'accarezzo. Ah madonna, stai con un pastore mare in mano, con chi sta? Spiego per chi non è romagnolo come si fa a far capire in Romagna che vuoi far l'amore con la tua donna. Allora in Romagna, come sappiamo tutti, la donna è sempre in casa che fa la piadina. E voi mi insegnate, chi fa la piadina romagnola, il movimento... Che bella inquadratura che è, la mia mamma che mi è da culo busoni, chissà come è contenta. La piadina, ecco, il maschio romagnolo, torna a casa da potto, 10-12 ore di lavoro, cosa fa? Vede la donna piegata, quattro dita sui fianchi... Fa sentire la presenza, si appoggia, dicendo anche... Il problema qual è? Che la donna si è emancipata. E ti potrebbe dire, quando tu ti appoggi... Ascolta... Quanti siamo qua? Siamo io e te. Allora che cazzo spingi? Vai in salotto a farla... A guardare la televisione... Che devo finire di farla mangiare? Non lo vuoi far l'amore, lo fai lo stesso perché un uomo è una bestia. La donna vuol far l'amore con... Vabbè, con l'uomo, la donna non te lo dice quando vuol far l'amore. Non lo vuol fare... Ah, se non lo vuole fare, te lo dice, eh. La vedi che gira per casa? Ho un vigliacco di un mal di testa. Ho le cefalee a grappolo. Ah, domattina vendemmio perché... Che che sono queste? Perché siamo differenti. Siamo differenti soprattutto nella sincerità. Perché un uomo, chiedo scusa, è più sincero di una donna. È vero o no? Perché ho seguito di un uomo... Cos'è la prima cosa che è noto in una donna? Cos'è? Cos'è? Eh? Colo... Le tette! Tecchi e scarto? Il culo, chiedo scusa. Vieni, la famiglia reale, la mettiamo tutti insieme perché... Però sono quelle le cose... Perché siamo bestie. Un uomo, la prima cosa che è noto in una donna, sono quelle. Le caratteristiche fisiche. Perché siamo animali. Le donne non sono così. Tu chiedi a una donna, cos'è la prima cosa che guardi in un uomo? Cosa ti dice? Gli occhi. Le mani. Ho fatto un giro per bell'aria oggi pomeriggio. C'era gente per farsi notare che camminava così. O se no, cos'è la prima cosa che guardi in un uomo? Cosa ti dicono il 90% delle donne? La prima cosa che guardo? La simpatia. Può essere un rutto con le gambe? Basta che sia simpatico. Signori, io sono un comico. Io sono simpatico di professione. Perché io non trombo? E Flavio Briatore, che nella scala della simpatia sta tra la merda gli ausiliari del traffico, è andato con nomi Campbell. Perché? Ma c'è delle barzellette che io non so? Non c'è qualcosa che non va. Grazie mille! Grazie mille! Ma che meraviglia! Grazie! Premio Sganasau 2018 Andrea Basumi! Grazie! Oh! Ostia! Eh? Prego, glielo puoi consegnare. Grazie, guarda, serviva veramente un apri bottiglia. E come si chiama? Lei, Sharon. Sharon, 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 Sharon. Stai giù imbecille, Sharon. Me lo porti via, se no ti... Me lo porti via, magari. Andrea Basumi! Guarda, dopo ti faccio fare un giro con la statuetta. Grazie mille! 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 Grazie.